Shannon Doherty torna a parlare del suo problema di salute ossia il tumore al seno e va a riferirci che nonostante le grandi difficoltà per colpa di questo tumore al seno va avanti continua a lavorare si trova da come lei stessa avrebbe detto al quarto stadio ma nonostante tutto va a continuare a operare a lavorare a stretto contatto con quello che è il mondo del cinema o meglio dei film per così dire la colpita dell'anno 2015 si trova al quarto stadio ma impegna in maniera concreta e autentica le sue forze, le sue energie nell'andare avanti anche se la malattia continua a progredire e a crescere e a ridarle problemi di salute, dolori su dolori, dolori lacinanti, insopportabili e forti è l'esempio della donna che vuole farcela è un esempio di donna che nonostante questo grave problema di salute continua a lavorare e lo fa senza se e senza va complimenti dunque Shannon Doherty, indimenticabile Brenda in Beverly Hills 90210 e Pru Alliwell nella serie televisiva nel telefilm intitolato Streghe bene, o meglio male perché purtroppo il tumore continua ad essere presente e continua a crescere e si trova al quarto stadio, questo è quanto è un esempio di donna grande in gamba e intelligente ciao da lei a nonnara due tre